guardate quanto è bello, guardate che spettacolo, la nostra prossima apertura e vieni a Pinsami siamo arrivati, la nostra prossima apertura sarà nel Lazio avete capito dove? non ancora? vi serve qualche altro indizio? e allora venite a Pinsami, a alta 25 metri, costruita nel 1377 la torre ottagonale di Castellone avete intuito? non ancora e venite a Pinsami, non vedo l'ora di aprire qua ed è per questo che c'è anche la torre dell'orologio e allora? l'avete capito? non ancora e allora venite a Pinsami, Villa Comunale Umberto I guardate quanto è bello, guardate che spettacolo e allora? ci siete arrivati? ah non ancora e venite a Pinsami ma secondo voi è o non è la tomba di Cicerone? per molti sì, per molti no ciò nonostante, questo resta uno dei monumenti più importanti di questa città e allora? l'avete capito? non ancora? vai giù e venite a Pinsami anche stavolta abbiamo scelto una città di mare guardate che colori e allora? sii mo l'avete capito? la nostra prossima apertura sarà a Formia e tra l'altro abbiamo scelto anche una posizione strategica vicino ai parcheggi e se ci sta traffico non problem venite con la barca perché siamo proprio di fronte al porto e mo siete curiosi? volete entrare? volete vedere il locale? e invece dovete aspettare ancora un poco ragazzi perché prossimamente vi comunicheremo la data dell'inaugurazione manca poco ancora un po' di pazienza e ci vedremo presto ciao Aiu ah dimenticavo replicate ma non imitate perché pure a Formia sa da sapere fa grazie ciao tutto vai che spettacolo eh questo periodo ha un problema passiamo 10 giovani eh è vero 3 vai fammela fammela facciamola insieme tutti la facciamo la facciamo va bene scusa devo dare una mano al maestro grazie auguro per la nuova apertura grazie 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 Enrico e noi stiamo aspettando la vittoria a posto va bene grazie a tutti grazie grazie